allora la cosa bellissima è che sala fa il trattamento a edo con il rullo fantastico e invece qui abbiamo cinzia che ha detto che la cosa più bella di questo trattamento la palla e gli piace tantissimo questa scuola olistica per diversamente abili che è una figata e che non vede l'ora che decolla decolla pure lei tra un po' decolli pure tu decolla ancora c'ha la mania della testa lei c'ha la testite la testite la testite è uno tipo di malattia si chiama batto in testa l'importante è ridere ricordatelo tu per quello sei super dotata vabbè allora fai match con la nostra scuola che siamo tutta gente che fa risoterapia facciamo due ore di risate quando siamo in amaga l'importante è ridere due ore e poi dopo facciamo anche i trattamenti però prima dobbiamo ridere minimo due ore io faccio ridere le persone per due ore in amaga e poi dopo faccio il trattamento perché io penso che la parte più importante del trattamento è la risata ma perché io abstentamento?